Ripresi gli sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati 700 migranti in 24 ore, il sindaco di Lenosa Lampedusa, Toto Martello, dice silenzio inquietante da Italia a Unione Europea. Le emergenze umanitarie devono essere valutate tutte con la stessa attenzione. Si parla di circa una dozzina di sbarchi. L'isola starebbe affrontando una situazione eccezionale rispetto ai flussi degli ultimi tempi, sottolinea ancora una volta il sindaco. A sbarcare a Lampedusa, in queste ore, sono persone di diverse nazionalità. Molti di loro arrivano da paesi lontani dalle coste africane. Noi, come sempre, continuiamo a fare la nostra parte, ma è inquietante il silenzio delle istituzioni italiane ed europee su quello che sta accadendo nel Mediterraneo. Le emergenze umanitarie devono essere valutate tutte con la stessa attenzione, anche quelle del sud del mondo, anche quelle che coinvolgono persone che hanno il colore della pelle diverso dal nostro. I riferimenti sono chiari circa il modo di affrontare l'emergenza ucraina rispetto alle altre e se c'è chi parla di profughi di serie A e di serie B, lo stesso Martello, settimane fa, aveva parlato di razzismo dell'accoglienza, dicendo che tutti vogliono i migranti ucraini, nessuno che arriva dall'Africa e dal sud. Intanto la ONG Sea-Watch ha fatto sapere di avere effettuato cinque operazioni di soccorso nel giro delle ultime 24 ore, tra cui quello di un'imbarcazione naufragata su cui viaggiavano più di 53 persone, salvati 34, i rimanenti dispersi in mare. Poche ore dopo il naufragio, la nave Sea-Watch 3 ha soccorso altri 87 migranti. Sarebbero arrivate a circa 200 il numero delle persone a cui l'equipaggio sta dando assistenza.